Grazie mille ed eccoci qua, oggi faremo questa super sgasata partendo da giù dal parcheggio l'Alpe Lusentino fino alla venta di questa montagna a Moncucco che conosco bene perché ci sono stato parecchie volte e niente, intanto ci si prepara per questo FKT che sarà previsto per il secondo weekend di luglio a condizioni permettendo, la preparazione sta andando bene